Ma Gustav, eh? Ma che è sta carta igienica marroncina? Eh, l'ho presa dall'EcoSolidale, carina, è di carta riciclata. Ma che orrore, ma riciclano pure la carta igienica adesso, ma non ho parole. Il contratto a tempo determinato è una scelta che dà libertà. Beh, io so solo che in 40 anni non ho mai avuto il contratto a tempo indeterminato. Non ti hanno mai pagato. No, no, qui non ci stiamo capendo. Con il senso di responsabilità. Cioè sono stanco nel senso di responsabilità. Non abbiamo vinto anche se siamo arrivati primi. Che vuoi che facciano destra e sinistra insieme? Litigheranno per sei mesi e poi si andrà all'elezione. Poi, cosa significa oggi essere di sinistra? Fare i bravi casalinghi organici alle donne. Finché ci sarà una disuguaglianza ci sarà bisogno della sinistra, quindi questo significa essere di sinistra. Il tema dei migranti, i temi legati alle donne, la violenza, il carcere, se non se ne occupa la sinistra, non se ne occupa nessuno in questo paese. Ministro Franceschini, le possiamo fare una domanda? Adesso invece è tornato finalmente una persona capace e sono sicuro che sarà il segretario del partito, sarà il primo ministro. È una persona incredibile, incredibile. Ha parlato di visione.